E ok 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 ci siamo, bentornati in questo nuovo video, bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche oggi torna il nostro consueto Morning with Crypto, l'appuntamento che ci accompagna da lunedì al venerdì con le principali news di mercato, con quello che è successo la notte, andremo ad approfondire il dump di ieri e il recupero notturno, ieri ne abbiamo parlato anche in live con gli amici di Hard Rock Crypto e andremo a vedere un grafico che non ha mai 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 sbagliato e vedremo se anche questa volta ci darà ragione. Ma come sempre prima di partire mi invita uno, quello di lasciare un bel mi piace, qualora questi contenuti fossero di vostro interesse e di vostro gradimento mi aiuta tanto col canale e se siete nuovi ricordate di iscrivervi col click sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Inoltre se volete supportare il nostro lavoro in modo completamente gratuito trovate qua sotto in descrizione tutti i link per iscrivervi con i principali sconti del settore sulle principali piattaforme che utilizziamo personalmente. In più trovate anche i riferimenti per entrare nel gruppo totalmente, ripeto, gratis. Non ci sono abbonamenti, cose nascoste, cose strane. Detto questo non perdiamo altro tempo e partiamo. Partiamo dalla prima news che in realtà è una cosa a mio parere importantissima e ho scritto proprio forse non abbiamo ancora capito qualcosina insomma a riguardo perché è arrivato il filling ufficiale da parte di BlackRock per l'Ishare Ethereum Trust. Quindi l'ETF spot su Ethereum, sapevamo che era stato costituito il veicolo ma non avevamo ancora avuto il secondo step. Non era scontato a mio parere che arrivasse subito perché magari volevano attendere delle situazioni, magari che si definissero prima di andare a fare un altro filling e invece sono arrivati con l'Ishare Ethereum Trust. Vi dico quello che penso io in maniera molto semplice e molto veloce. Il track record di BlackRock su gli ETF proposti, gli ETF respinti, penso sia uno, gli hanno respinto nella loro storia su 500 proposti se non vado errato, un numero di questo genere qua. Che facciano il filling per quello di Bitcoin, che lo facciano per quello di Ethereum e gli respingano entrambi nello stesso momento o comunque a distanza di qualche mese sarebbe storia per BlackRock, due respinti di fila. Quindi a mio parere quando vanno a fare una cosa di questo genere è perché credo che questi signori sappiano già qualcosa che noi non sappiamo, eventualmente che sia già praticamente approvato. Ripeto, è una mia idea personale, non è un consiglio di fare investimenti, cose compra, vendi, cose del genere, ma è una questione proprio reale, pensateci. Cioè, se voi andate a fare un ETF spot su Bitcoin, che è la cripto più capitalizzata, meno controversa se vogliamo dal punto di vista di security, e poi gli presentate dopo anche quello di Ethereum, mi sembra come dire ok, abbiamo già risolto la questione di Bitcoin, passiamo alla prossima. Magari mi sbaglio, ma secondo me deve fare riflettere molto. Passando a una chart importantissima che non ha mai sbagliato, è quella del Nupal, che è praticamente il Net Unrealized Profit and Loss, quindi i profitti e le perdite non ancora realizzate dagli attori di mercato, e ci dice un attimino a che punto ci troviamo delle varie situazioni di mercato. Se andate a vedere storicamente questa linea, questa qui, questa qua blu, è quella del Nupal. Questa che vedete, nera, è la linea del prezzo in scala logaritmica. Banalmente, vedete che quando siamo andati a fare All Time Eye, anche nel 2017, praticamente il Nupal toccava la zona grid di euforia. Comunque eravamo ampiamente in quella gialla, di belief o denial, e poi siamo andati sempre nella zona di capitolazione, che è stata sempre un'ottima zona di acquisto, per poi andare a ripartire. Per chi mi sa, è un grafico che abbiamo già visto, e che monitoriamo, e che ne abbiamo parlato, soprattutto in bear market, a cui zona 15, 16, 17 mila dollari di questo grafico, che anche questa volta si è dimostrato molto interessante per delle buy zone, delle sell zone importanti. Vedete che anche nello scorso ciclo di mercato, siamo arrivati praticamente con un Nupal, sui 61 mila, 63 mila dollari, molto vicino alla zona di euforia grid, per poi andare a correggere nella seconda parte, ritornare a fare un altro high nell'ultimo pump, insomma, di mercato, e poi ritornare in giù. Quello che riusciamo, a mio parere, ad estrarre da questa chart, è che quando ci avviciniamo, o meglio siamo all'interno della zona gialla, o meglio arancione, come lo vogliamo definire, è una zona di attenzione. Ok? Non sempre, non sempre significa che quello è il top, perché lo vedete, ad esempio, in questa zona qua, è stato per parecchio tempo, il prezzo ha continuato a impennare da 1000 dollari a 15, 18 mila dollari, però sicuramente vuol dire che qua dentro c'è tanta gente che è in profitto, e prima o poi questa gente prenderà il profitto. Se non lo prendete voi, lo prendono loro. Ok? Questo è poco ma sicuro. Quindi, terremo sicuramente monitorato, ora ci troviamo nella zona di ancora ottimismo, quindi c'è ancora spazio, sicuramente qualche shake porterà a scendere un pochettino magari le persone che andranno a vendere un po' in panico, però ripeto, qua dentro a mio parere ci sono molti smart money, in questa fase di mercato pochi retail, ok? Ve lo dico, non c'è stata la corsa all'acquisto di bitcoin, quindi la cosa è sicuramente più interessante. In ogni caso, lotteremo aggiornati e cercheremo di capire come starà andando. Detto questo, lo farò vedere un piccolo dato sulle liquidazioni, perché ieri ne avevamo commentate in live appunto su come non ci fosse stata una particolare continuazione volumetrica e di come non mi sarei immaginato in maniera abbastanza semplice come il prezzo avrebbe potuto tornare sui 36,2, 36,3, una chiusura al di sopra da 12 E, ma ho detto aspettiamo le chiusure, andatevela a vedere alla live perché alla fine abbiamo fatto un'ottima analisi a riguardo. E così un po' è stato, perché le liquidazioni sono state sì long, ma anche short, che sono andati a prendersi all'ultimo momento, vedendo i gamers e i losers e poi lanciandosi sulle chart, troviamo Mantle più 12%, Young Finance più 11%, Doge un più 7%, Celestia che continua un più 5%, Nier un più 5%, Eldra un più 4%, Avalanche un più 4%, insomma comunque ci manteniamo positivi. Tra i losers troviamo FDT, vabbè ma questo se lo tradate, insomma siete un po' gambler direi, Solana un meno 12%, ma settimana positiva sappiamo tutti, Gas un meno 9%, Sui un meno 8%, Però vedete sono tutti i nomi che praticamente quasi tutti, settimana rimantiene positiva, questo perché, ripeto, serve continuazione sui volumi, non abbiamo avuto particolare continuazione, e siamo tornati in un'altra di 36,4%, che alla fine dal top, di ieri più o meno, facciamo, prendiamo le chiusure, siamo, ci troviamo in questo momento a un meno 3,7%, quindi siamo andati a invalidare una brutta candela che stavamo andando a completare di un meno 6%, e questo lo abbiamo visto anche a livello orario, vi ho detto, questo dump qua, ok, questo dump qua, non ha avuto particolari volumi, fino a questa zona qua, dove abbiamo avuto questa finale di capitolazione, perché poi, vedete, in realtà i volumi erano più elevati nella fase up, soprattutto questa candela qui, che ha dimostrato più domanda, ok, e qua al primo momento abbiamo settato un minimo, la probabilità più elevata andando all'interno di un weekend è quella, ve lo ricordo, dell'equilibrio in questo caso, cioè nel senso prendersi un po' di respiro in queste zone qua, e questo, ripeto, è fondamentale anche per le altcoin, perché vanno a dare spazio alla dominance, che, dipetto, non gode di ottimissima salute, lo possiamo vedere da questa chart, come la dominance è andata a perdere 12,26 crociate ribasso, ha provato a perdere la 50, qualche dump l'ha aiutata per risalire, ma lo stiamo andando a riperdere nuovamente, qui siamo in zona 52,16, molto scarica, se arrivassimo in zona 51, sarebbero belle cose per tutte le altcoin, più che altro per mantenere e continuare la loro discesa, insomma, la loro ascesa e quindi discesa della dominance. Un piccolo appunto su alcune altcoin che stiamo osservando, ne parliamo nel gruppo, appunto, totalmente gratuito, ve lo ripeto, siamo oltre 200 persone, trovate il link qua sotto in descrizione, per analizzare insieme il mercato, e più che altro condividere degli spunti di operatività, non è una sala segnali, non è una cosa del genere, ma sono spunti di operatività, molto siccome utili in queste fasi di mercato, dove anche molte persone sono spaesate, è un modo per essere con voi H24, al di fuori dei video, e praticamente vediamo come Ethereum, alcuni sono un pochino messi male, dicendo, ma perché Ethereum non spinge così tanto? Ragazzi, Ethereum ha una capitalizzazione molto elevata, e altrettanto è difficile spostarlo, nel senso, rispetto a Solana, rispetto ad altre coin più piccoline, ovviamente per cap, andatevela a vedere, è ovvio che è molto più difficile, andarle a spostare, a mio parere, è un ottimo trade off, rischio rendimento, se vi aspettate di fare, i più 150% nel giro di una settimana, su Ethereum avete sbagliato coin, cioè non è un progetto da questi numeri qui, ma è normale, è più un investment, institutional grade investment, quindi un investimento più da attori istituzionali, lo vedete anche dai feeling degli ETF spot di BlackRock, che non lo fanno ancora sulle altcoin più piccoline, vanno su quelle più capitalizzate inizialmente, perché sono destinati a quel pubblico là. In ogni caso, la stessa cosa vale anche per Solana, che è riuscito a sfondare la distanza di 60 dollari, anche se poi c'è tornata sotto sullo storno, attenzione appunto, perché i 60 dollari li abbiamo segnalati comunque con una resistenza forte, voglio vedere chiusura e continuazione, per andare a dire, ok l'abbiamo recuperato, ok siamo on track per andare avanti. Un appunto sui progetti che avevamo segnalato, che stiamo seguendo, TIA molto bene, Celestia molto molto bene, 6.45 conferma questa blue flag, vorrei vedere anche oggi continuazione su questa cosa qua, però è ottimo, perché appunto si conferma in blue flag, in un ottimo pattern di low e high superiori, questa trendline l'avevo mantenuta solo per indicazione, non è particolarmente significativa, anche se, se l'andiamo ad allungare un pochettino, potrebbe essere interessante per vedere prossimi livelli di resistenza di supporto, però ripeto, mi piace di più vedere la sua action, ha un pochino in zoom out, magari sul 4 ore, vedere come effettivamente stia andando a recuperare ogni occasione che ha a disposizione, stessa cosa vale anche per il Livium, che rimane sideways molto bene, a mio parere, perché va a ricaricare e cerca di confermare la sua fase di accumulazione, ripeto, tutto può essere, però, insomma, noi ragioniamo i termini probabilistici, oggi arriva anche il futures su Caspa, ve l'ho già detto cosa ne penso, anche nel gruppo, bene, ma è un futures, quindi si può andare short, non viene listato lo spot su Binance, viene listato solo short, non disponibile per l'Italia, disponibile per l'estero, possono essere situazioni interessanti anche per andare a shortare per alcuni attori di mercato, quindi, ripeto, i futures non sono mai una cosa fantastica, il listing di un futures, perché si aprono entrambi gli scenari, ultima cosa, Avax, che anche lei ha un bellissimo pattern, ieri è andata comunque a completare, anche lei, vedete queste sorte di bull flag, questi storni e ripartenze molto forti, con perfetto touch della 12 EMA 4 ore, ma in ogni caso, ci terremo aggiornati nei gruppi, detto questo, mi fermo, fatemi sapere anche voi, cosa ne pensate qui sotto nei commenti, fatemi sapere se, come siete messi anche voi, insomma, mi fa piacere leggervi tutti, noi ci seguiamo prestissimo con un prossimo video, e a presto, insomma, vi auguro una spagnita giornata, ciao ragazzi!